prepariamo la ganache al cioccolato montata per farcire delle torte abbiamo bisogno di 200 ml di panna da montare zuccherata 150 grammi di cioccolato fondente e 100 grammi di cioccolato al latte per prima cosa spezzettiamo tutto il cioccolato e lo teniamo da parte quando abbiamo tritato tutto il cioccolato lo mettiamo in una ciotola fino al momento dell'utilizzo in un pentolino versiamo la panna e la mettiamo sul fuoco a bollire quando la panna prende il bollore spegniamo e ci buttiamo la cioccolata e mescoliamo e lasciamo freddare una volta il composto di panna e cioccolato si è freddato lo mettiamo in una terrina e con uno sbattitore elettrico lo montiamo ed eccola pronta montata ben ferma e Grazie.